Abbiamo trovato un player che sembra mongra, speriamo che non sia mongra, rega, guardate cosa fa, avete visto? Rega, mamma mia, adesso vi faccio vedere quello che ci fa, allora io sono con il mio amico e stiamo facendo team, ci ha distrutte tutti e due, tutti e due, sappiamo come, vabbè io sono con il pompa a leva, il medikit, il kk Ragazzi oggi ragazzi è un programma un spielen che non sembra un umana, cioè non è umano, non è umano, non è umano, non è uno neieno Si specificano il nome che si chiama Anani, ci ho messo la modalità Anani Ho fatto quara, fatto quara E fa pezzo non tocca da me Fra, eccomo ho un gran... Fra! Oh mio dio! Oh! Regaia ca... Non è umano! Guarda, guarda, guarda come il fiero! Ma... cosa? No Fra, sto qua è hacker! Rega non è umano! Rega! Ma cosa? Mamma mia! Fra, ma sei un hacker io sclero eh? Però non sei un hacker! Fra, mi senti? Mario! Mario! È cominciato il round eh? Solo per dirti! No, io me ne scappo da sto qua, se no dopo mi distrugge il mongrel forse, non lo sappiamo! Sì! Perché c'è, sembra mongrel rega, è da PC sembra! Appunto, appunto! È da PC, sì è da PC perché c'è, è impossibile che uno da controller eviti così bene! Ok, il pulcino Pio Pio lo ha ammazzato easy, clappato! Sì! Fra, sicuramente giocherà da PC vero? Sì sì! Perché c'è, non è... Ecco sono io, sono io! Sì! Eh... Guarda che ti ricordo che sono con io e non ti dico come mi chiamo! GG! Eh, però il prossimo round mi devi dare il tour, mi devi dare tu la vittoria eh! Sì, sei sempre qui! Sei sempre qui! Sì! Mi chiamo Tutto Grande! Mario è staccato pronto! Eh, staccato! Non è staccato! Barra sotto! Eh, no, no! Mi chiami Mario! Ma dici su PlayStation o su Fortnite? Ah, YouTube! Come ti chiami? Mario! Eh, Mario è staccato tutto grande! Ok, quello lì del supererai uccisa! Clappato, meglio! Un attimo, fra poco ti cerco perché non c'è il cellulare in mano adesso! E non ho voglia di prenderlo! Ah, sono io fra, sono io, sono io! Qual c'è il nome, mamma? Oh, ma... Apri, apri! Ah... Fra, fra, fra! Fra, fra! Fra, ti dico di scappare! Vieni, vieni, scappa, scappa, scappa! Sì! Sì! Se no ti ha ammazzato! Ti ha ammazzato! Come un grande... Mi chiamo Mario! Un attimo, un attimo, fra! Un attimo! Un attimo, fra! Un attimo, fra! Gigi, arrivo, fra! 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 Non so come il par! Oh, va! Si può essere come un PC player però! Un attimo! Prima ci ha fatto... Ha fatto tutto... Tutte le possibili, pure a mia stala! Fra... Fra, come ti chiami su Youtube? Ehm... torzioni 6-8 anni solo da pod smoca gg perchè scrivi riportnite fra in un tuo video ti aspetta riportnite e lo dico e sta diventando molto virale riportnite vabbè gg voglio guardare riportnite vabbè faccio come un ballo il ballo che mi viene a casa il ballo che io oh ma dove stavi tassi qua ma lo stai mi accettando rovide 250 edit ma cosa è ah vero 250 edit dai dai guardiamo come editi ah tu editi con triangolo eh no l'ho cambiato ah hai fatto con triangolo per farti sembrare ancora più veloce no e rimetti pronto che noi facciamo vuoi rifarla o no facciamolo ok ma che veloce è appunto c'è scritto pure la velocità 8 kill non è un record però non fa niente il mio record è di 24 kill ti puoi iscrivere ti puoi iscrivere al mio canale come si chiama che dove si cerca eh justin staccato caiafa come su portnet però c'è staccato tra justin pro 12 no però io mi chiamo justin caiafa come su portnet però eh justin caiafa si si ho 12 scritti se niente credo no 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 tre non la metto in carica io raga cosa le mette in carica con cannoli se li scarica continuamente è quello che dicono Drift è uguale a 1000 edit in un minuto ma Drift che ci vede il salemato è quello che riesce a fare 1000 edit in un minuto per questo si riesce a creare a mettere le mie madre a fare questo video